Ci sono anche alcuni titolari di Bed and Breakfast di Sciacca, tipologia ricettiva ricadente nella classificazione delle strutture extraalberghiere, nella lettera sottoscritta da Federe Alberghi e indirizzata al Presidente del Consiglio Conte, ai Ministri Franceschini e Gualtieri. Fanno presente i titolari dei BNB che nell'ultimo decreto, quello che ha disciplinato le riaperture delle attività imprenditoriali, non è stato fatto alcun riferimento al loro settore. Chiedono così un'integrazione urgente attraverso l'introduzione di un emendamento che contenga la possibilità di una riapertura immediata dei Bed and Breakfast, poiché sostengono, è indubbio che grazie alla loro capillare presenza all'interno di molti territori possano fungere da supporto indispensabile in considerazione del riavvio di ulteriori attività produttive nel Paese e delle reali difficoltà che incontrano le strutture alberghiere. che in questo particolare periodo storico non riescono a garantire una continuità di apertura e gestione. Soprattutto ritengono i titolari di BNB che le strutture ricettive extra alberghiere, per la loro stessa connotazione strutturale, ad esempio le case vacanza, siano in grado di garantire le adeguate misure di distanziamento sociale utili al contenimento della diffusione del virus Covid-19. Inoltre, come più volte ribadito anche attraverso altre stanze presentate nel corso delle ultime settimane, gli albergatori chiedono, così come previsto per le attività imprenditoriali, il riconoscimento di un sostegno anche per coloro che gestiscono strutture ricettive in forma non imprenditoriale, ovvero sia senza obbligo di partita IVA, ma in ogni caso regolarmente censite da regioni, province e comuni, per le quali l'attività svolta rappresenta una irrinunciabile fonte di reddito. Si tratta di un sostegno, osservano, che potrebbe essere riconosciuto a condizione che la persona fisica titolare della struttura non abbia già coduto di altre forme di sostegno. Questione che ha visto anche una settantina di titolari di attività sottoscrivere una petizione in cui si fa notare proprio come il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quello del 26 aprile scorso, non abbia inserito villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case d'appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence, alloggi connesse alle aziende agricole tra le attività autorizzate a poter rimanere in esercizio. Nessun aiuto da parte dello Stato per noi, eppure abbiamo mutui, affitti, bollette. Il nostro reddito veniva dalle nostre, dalle vostre case, ma adesso siamo rimasti soli. Vediamo allo Stato di puntare sul turismo.